Sono state due giornate intense e ricche di contenuti, quelle che rascorse lo scorso weekend a Castelnuovo Garfagnana per la quarta edizione di Superabile, la manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio. Come diceva il titolo, la manifestazione aveva al centro il superamento delle barriere architettoniche, fisiche e non solo. Nel corso delle due giornate sono state tante le iniziative, molte di queste nel settore sportivo. Quello che stiamo vedendo è un doppio di tennis. Possiamo dire che sono stati due giorni veramente soddisfacenti, soprattutto il primo con l'incontro in mattinata con gli studenti che hanno dimostrato molta attenzione riguardo questo problema delle barriere architettoniche che molti non neanche fanno caso a queste cose, però è importante per noi che siamo in carrozzina. Scarsa purtroppo la partecipazione all'incontro aperto ai tecnici comunali di tutti i comuni della Valle del Serchio al quale erano presenti solo tre professionisti. All'interno della tenzostruttura nei pressi degli impianti sportivi si potevano conoscere anche le novità sugli strumenti di aiuto a portatori di handicap. Tante le carrozzine in esposizione sia per l'utilizzo agonistico che non. Tra le novità questo mini pattino che permette di scivolare sulla neve fresca e poi questa carrozzina speciale che dà l'opportunità di percorrere anche sentieri di montagna con l'aiuto di due volontari. L'iniziativa si è conclusa con il pranzo organizzato dall'Associazione Il Sogno al quale hanno preso parte oltre 400 partecipanti.